Toccati da Gesù. Questo il titolo del libro di Monsignor Vincenzo Peroni, presentato al pubblico martedì 10 novembre nella sala Morsabilini del Centro Pastorale Paolo VI. Il volume, edito dall'opera diocesana San Francesco di Sales, racconta un itinerario di contemplazione e preghiera in Terra Santa. Novembre 2014 eravamo in un pellegrinaggio diocesano con il vicario generale e con Don Vincenzo Peroni che ci illustrava i luoghi sacri e a un certo punto presi da questa illustrazione che faceva Don Vincenzo in maniera veramente molto molto suadente e coinvolgente gli abbiamo detto ma come sarebbe bello se le cose che tu dici potessimo raccoglierle in un libro. Lui dice me lo chiedono in tanti ma non l'ho mai fatto. Ecco siamo rifitti in questa impresa con un libro toccati da Gesù scritto appunto da Monsignor Vincenzo Peroni e illustrato da Alessandro Algisi che è un illustratore molto noto ai Bresciani per la bravura delle sue tinte. Tinte che ha voluto riprendere dal vero andando insieme a Monsignor Peroni in un altro pellegrinaggio proprio per riprendere dal vivo alcuni luoghi cari a Gesù. Ringraziamo quindi un po' la nostra casa editrice San Francesco di Sales, un po' il centro italiano promozione ai pellegrinaggi e naturalmente Brevivet per averci dato una mano in questa impresa. Questa pubblicazione nasce dal desiderio di offrire uno strumento accessibile e maneggevole al pellegrino che desidera fare del suo viaggio in Terra Santa un ritiro spirituale itinerante, un'occasione di conversione e di rinnovamento della vita. La Terra Santa è tutta affascinante, il libro è costituito da meditazioni su brani del Vangelo per cui tutto il Vangelo è affascinante, coinvolgente. Io ho un legame affettivo molto grande per il Monte Tabor e particolarmente poi per il Santo Sepolcro. Oltre ai luoghi poi negli anni sono diventate molto importanti anche le persone, le comunità cristiane, i frati che lavorano in Terra Santa per cui pensare alla Terra Santa per me è sempre dilatare il cuore su tante realtà, su tante persone, su tante esperienze, tantissimi incontri e poi il ricordo anche di tanti tanti pellegrini che con me hanno condiviso queste esperienze che davvero molto spesso si sono lasciati toccare e trasformare da Gesù. Il tema principale è quello del cammino, non solo esteriore perché compiuto attraverso i sensi, ma anche e soprattutto spirituale, tanto da farlo di venire il Santo Viaggio.